ci sono ovviamente le Yankee Candle e quante guardate queste sono tutte candele candele ancora candele sono al 50% solo queste però questa è black sandwich quindi sabbia nera questo è caffè al fresco bellissimo a 18,99 insomma island waterfall a me piacciono tantissimo queste con tre sduppini troppo belle costano tanto però sono belle guardate questo è tutto il reparto Yankee Candle di Bed Bath & Beyond quindi non siamo in un negozio Yankee però qui si trovano un po' ovunque vediamo così mi dite che cosa c'è si trova anche in Italia e cosa non si trova white sage sage sarebbe la salvia cashmere lavanda honey lavanda gelato coconut coconut beach cosa un attimo ci arrivo honey clementine una notte a tahiti coconut beach queste cosa sono candele piccoline coconut fusion waterfall coconut beach ancora ocean star beach walk una passeggiata sulla spiaggia ocean star notte di mezza estate una tradizionale lavanda e vaniglia liliac liliac blossom quindi fioritura di lilium vediamo le profumazioni spray spero si veda tutto cerco di essere il più lenta possibile fresh cut roses pink sand che bella perché poi sono veramente abbinate per colori nell'esposizione home sweet home strawberry summer storm sono curiosa di sentire questa summer storm non mi ricorda una tempesta d'estate sinceramente rimettiamo rimettiamo tutto a posto e continuiamo non prendete le candele dal tappo perché il tappo poi vi rimane in mano e la candela vi cade sui piedi e vi spezzate le dia dei piedi quindi queste sono profumazioni per la cucina sugar e spicy oh guarda churros churros non so mai come si chiamano quei dolci churros quei dolci messicani donuts ancora ancora continuiamo e qui andiamo sui toni dell'arancio e del giallo questo è il mango peach salsa un po' latino quindi pesca mango questa giallo invece flower in the sun questa è nuova e questa vanilla cupcake e a casa ho la creme brulee è fantastica french vanilla midnight jasmine ovviamente ci sono anche i giaroni quelle grandi anche queste sono carine con questi tappi di metallo questo come sa di vanilla cupcake si lo voglio mangiare no ti prego le profumazioni tipo al cotone sono le mie preferite in assoluto clean cotton si clean cotton sono molto fresche profumate beach wood legno che sta sulla spiaggia sun and sand sole e spiaggia e sabbia sole e sabbia comunque quella al caffè era fantastico quasi quasi me la prendo penso che queste sono ancora yankee no queste sono altre candele di altre marche perché loro le usavano tantissimo le candele e yankee candle da bath and beyond e con le yankee candle profumatissime vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie.